anche se le armi in questa season sono davvero belle e il gameplay è cambiato notevolmente diciamo che i fight si sono rallentati molto e anche le build sono diventate inferiori ci sono ancora un pochettino di persone che storcono il naso soprattutto sui pump che io immagino e mi auguro vengano baffati entro il prossimo update abbiamo però anche tante notizie oggi sulle armi un sacco di easter egg quindi passerei immediatamente al primo argomento di oggi che parla esattamente del ristorante che c'è ai bordi della mappa forse alcuni di voi non lo hanno ancora visitato ma è una struttura davvero interessante da vedere soprattutto perché nasconde al suo interno una curiosità molto molto interessante e si tratta proprio di lui mida ragazzi ne avevamo già parlato con qualche video news scorso dove donald mustard aveva praticamente confermato il fatto che potrebbe tornare in questa season anche uno dei personaggi più amati di fortnite proprio mida perché il ristorante è collegato a lui perché se andiamo all'interno e guardiamo bene i dettagli c'è un libro aperto con dei disegni molto curiosi quello che vedete nella pagina di sinistra sembra essere di nuovo il nucleo viola del capitolo 2 che abbiamo visto più spesso essere protagonista dei vari eventi nella parte destra ci sono ancora dei disegni uno che riguarda probabilmente una rottura come vedete di questo nucleo e ancora più a destra invece non è ben chiaro ma la cosa più interessante è che sul tavolino c'è proprio un fazzoletto con la m dorata di mida questa è una curiosità per tutti gli appassionati della storyline e quindi stay tune che probabilmente qualcosa verrà fuori andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi si tratta ovviamente del bundle di gears of wars sono state rilasciate alcune notizie interessanti bundle che in realtà già si vedeva nel trailer di questa season 1 del capitolo 3 e che sembrerebbe uscire il 10 dicembre non sappiamo ancora la rarità delle skin oppure se verranno come si dice messe nello shop a pagamento anche se lo reputo abbastanza difficile io credo che sia più un bundle con i v bucks ed ecco qui infatti le informazioni che ci dicono che il new in game fortnite delta one set si chiamerà così leggendari heroes quindi sono leggendari probabilmente ma non è chiaro ancora phoenix e kate diaz bring the unique skill of delta one to the island available now questo sarà appunto il la descrizione del bundle che arriverà il 10 dicembre ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi mi riferisco a un'altra curiosità c'è una location in mappa dove potrete trovare con lo spawn del 100% un lama la location la state vedendo qui ve la faccio vedere meglio ragazzi è questa casetta con il piccolo mulino che c'è vicino appunto alla staccionata e in questa zona sembrerebbe che un lama sponi al 100% per andare un pochettino più nel dettaglio come vedete siamo vicino al log gem lumberyard che è vicino appunto al corso d'acqua sulla sinistra della mappa un po più sotto dove c'è proprio la curva del fiume segnato in rosso c'è quella posizione fateci un salto provate a vedere perché è davvero fighissimo la possibilità di avere lo spawn rate di un lama del 100% questo garantisce ovviamente uno start incredibile non sappiamo se sia un bug o semplicemente una cosa voluta dal team di epic games andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi un'altra notizia super interessante per tutti voi questa è una mappa dettagliata di tutti i forzieri presenti quindi potete studiarvela se avete già deciso quale sarà il vostro land per quello che riguarda il competitive competitive che inizierà il 10 gennaio una mappa davvero utilissima sentitevi liberi di prenderla senza nessun problema e andando avanti con il prossimo argomento di oggi finalmente parliamo di armi ragazzi perché nei file di gioco esistono delle statistiche per la rarità mitica delle armi in questo caso stiamo vedendo il pump scusate quello a colpo singolo non vi sto qua a leggere tutte le statistiche se volete stoppate il video e le guardate voi il la nostra pistola il pump a ripetizione ma so che esistono anche delle statistiche per la cappa e la mitraglietta quindi se qualcuno ancora non si trova benissimo con le armi sappiate che arriveranno perlomeno le varianti mitiche dei pump anche se come dicevamo all'inizio di questo video molto probabilmente dalla prossima patch che dovrebbe arrivare non questo martedì ma il prossimo in teoria speriamo che arrivi un buff dei due pump perché sono assolutamente ingestibili infatti come vedete anche i giocatori più famosi di fortnite stanno utilizzando mitraglia e il nuovo ar quindi tanta tanta roba ma andiamo avanti perché c'è un altro easter egg davvero super interessante da vedere non vi dico dov'è ma in una casetta in giro quelle come si dice quelle singole in giro per la mappa troverete un mini easter egg di kevin the cube versione blu giusto così per ricordarci quello che c'è stato in tutto il capitolo 2 e l'importanza anche che ha avuto il cubo nel capitolo 1 io personalmente mi auguro che il cubo non torni in questo capitolo 3 troverete su un piccolo piedistallo appunto il cubettino così per ricordare e andiamo avanti perché ecco qui anche la prima informazione sul winterfest 2021 una di quelle come si dice uno di quegli eventi che è tanto atteso sia dagli sviluppatori che dalla community di fortnite per il momento abbiamo il background della lobby ufficiale quindi come vedete un pattern con i pini quindi con gli alberelli di natale presto sicuramente arriverà anche qualcosa mi auguro inerente anche ai regali e sicuramente dovrebbe arrivare anche la competizione del winterfest in teoria staremo a vedere ovviamente come si muoveranno ma la certezza che ci sarà per fortuna ce l'abbiamo andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché sta per arrivare anche una nuova variante della skin di spider-man degli x-men non si sa ma come leggiamo in queste due righe sulla mappa ci sono dei teaser dedicati ai personaggi di spider-man che ancora non sono in game soprattutto ci sono gli x-men e ci sono e c'è il green goblin green goblin che lo sappiamo è l'antagonista principale di spider-man abbiamo comunque altri dettagli in giro per la mappa e la vera domanda è arriveranno altri altri stili di spider-man io vi dico già probabilmente sì perché anche qui il team di sviluppo di fortnite si era un pochettino tradito dicendo che spider-man essendo uno dei principali characters di questa season avrà sicuramente anche degli stili extra e chiudiamo con un fatto molto molto divertente per chi non lo sa è possibile aprire il volt con il pollo quindi se voi andate in un volt mantenendo sulla testa il polletto non avete bisogno di un compagno per aprire quel lucchetto che richiede ovviamente più di un giocatore per essere aperto non sappiamo se sia una cosa sbagliata o una cosa voluta di certo è una cosa sicuramente divertente insomma ragazzi io spero che anche per oggi per il video news vi sia stato utile vi ringrazio per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale ragazzi aiutatemi a crescere noi ci vediamo al prossimo video ciao mizze che non mi parte mai l'altro chissà perché non lo metto qui non lo metto